Anche a Manfria le docce pubbliche sono arrivate, sono state installate oggi grazie alla collaborazione di Vino Acquedotti che ci ha dato un punto di fornitura d'acqua, 24 ore su 24 acqua corrente, dove il comune ha installato una doccia uguale a quelle che sono state installate lungo tutta l'arenile che va da Machitella fino al fiume Gela. Quindi finalmente a Manfria la prima volta ci sono le docce pubbliche, a Manfria c'è l'acqua finalmente, questa è una cosa da sottolineare questo è un altro piccolo passo avanti, anzi importante passo avanti per poter migliorare la visibilità delle nostre spiagge. Un intervento importante per il turismo, abbiamo installato l'ottava doccia anche a Manfria e dopo quelle che abbiamo installato a Luncomare e a Gela. Un altro tassello importante oltre a quello delle pedane per rendere ai meno fortunati o ai diversamente abili l'accesso alle spiagge. Un apprezzamento particolare volevo farlo anche ai privati che ci hanno anche sostenuto come la Divina Acquedotti che ci ha aiutato anche con l'installazione di una delle numerose passarelle che abbiamo installato.